Grazie a tutti voi che avete partecipato a questo momento che insieme con la consulta delle aggregazioni laicale abbiamo voluto organizzare tra l'altro in tempi non sospetti il che significa parlare di politica non necessariamente occorrono competizioni elettorali vicine quindi già questo è un grosso vantaggio per la chiesa poi certo qualche risposta insomma qualche domanda la facciamo noi lei ci chiedeva ma chi è che vi ha insegnato questo Dio? Non lo so a me viene facile rispondere adesso non so agli altri ma certamente insomma ci avete educato anche in questo senso a immaginare un Dio così poi dico tra il desiderio del Papa espresso nell'Evangelii Gaudium è la realtà delle chiese locali il percorso è abbastanza lungo perché come diceva giustamente lei Padre Sorge ci scontriamo con la realtà allora io devo entrare perché brevissimamente devo riuscire a dire qualche cosa altrimenti non ha senso quello che vorrei dire quindi vi prego di pazientare qualche minuto perché lo leggerò così eviterò divagazione anche perché non ho il tempo necessario e io credo che abbiamo sprecato tanto tempo tanti anni e probabilmente se non cambiamo rotta ne spreceremo altrettanti proprio nell'approccio alla politica perché lo abbiamo concepito come contrapposizione o verso uno un avversario politico piuttosto che verso un altro e io dico che non possiamo una cosa che non possiamo più tollerare sono dei laici e dei sacerdoti distratti impreparati o peggio ancora solo personalmente interessati né comunità ecclesiali oscillanti tra indifferenza e conformismo è inaccettabile che ci si possa ancora offrire al politico di turno per un'elemosina fatta magari attraverso qualche delibera per un qualsiasi bisogno del tempio o chissà cos'altro credo che occorra recuperare la libertà e la coerenza dell'annuncio se vogliamo tornare ad essere come ci ricorda io dico a questo punto la lettera di Ogneto che ci rimanda a un'epoca ancora anteriore a quella di Sturzo ovviamente siamo ai primi secoli della 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 dottrina cristiana che ci vedeva come ci descriveva come l'anima della società o comunque l'anima nella società è finito il tempo dell'accontentarsi che un alto numero di studenti scelga ancora l'ora di religione cattolica o dei cespiti dell'otto per mille come diceva lei no mentre la secolarizzazione dei vissuti avanza e galoppano già sentimenti post cristiani ognuno di noi agisce politicamente quotidianamente ognuno perciò se vogliamo tornare ad investire nel senso cristiano del termine ci occorre tornare a seminare ma sempre nel senso cristiano del termine cioè rieducare le coscienze prima di tutto dei cristiani che spesso non si differenziano da quelli dagli altri quelli che noi chiamiamo altri rubano cioè rubiamo mettiamoci tutti nel calderone tanto sfruttiamo approfittiamo siamo bravi e buoni clienti dei rappresentanti politici di turno siamo anche arrabbiati oppure delusi ma al contempo inerti o con poca voglia di impegnarci sul piano dell'impegno politico istituzionale occorrono cattolici pronti ad impegnarsi con una motivazione profonda che vale o che va oltre l'interesse personale come giustamente diceva lei quando pensavo visto che avevo scritto questa cosa e lei diceva queste cose dico ma adesso che cosa dico le ribadisco le ribadisco che superi l'indifferenza quindi vada oltre l'interesse personale superi l'indifferenza o la delusione ma occorre anche la formazione come competenza tecnica perché è fondamentale colmare lo iato del pensiero del pensare con i problemi concreti della gente ecco dove la rottura dove noi abbiamo creato discrasia dove non facciamo unione sul piano su una società se una società non funziona bene differenti sono le responsabilità però mi permetta un conto è la responsabilità del povero disgraziato che cerca lavoro e quindi possibilmente costretto per portare il pane a casa a chiedere al politico di turno un conto è la responsabilità del rappresentante istituzionale che approfitta del bisogno altrui o che non ha la capacità o anche il coraggio di fare delle scelte lungimiranti per il bene quello che viene detto comune io lo chiamo così perché mi piace di più il bene di noi tutti nessuno escluso siamo tutti presi dal subito e tutto affermava il capo di una tribù indiana quando dobbiamo prendere una decisione gli anziani si radunano per deliberare e prima di tutto si chiedono una cosa la decisione che prendiamo andrà a beneficio della quarta o quinta generazione in futuro se non riusciamo a rispondere sì rinunciamo questo aneddoto è riportato da jeremy rickin nel libro guerre del tempo dedicato al diverso ruolo che ha il futuro nelle varie culture bene le nostre democrazia hanno tanti pregi tante cose belle ma tanto da apprendere da questa cultura da questa saggezza indiana da uno sguardo il più fedele possibile della alla realtà delle nostre comunità adesso veramente questa è una piccolissima premessa delle nostre comunità perché di questo dobbiamo parlare altrimenti facciamo solo teoria del tutto è strane al messaggio della dottrina sociale della chiesa come ufficio diocesano della pastorale sociale abbiamo intrapreso un cammino lungo e difficile ma che riteniamo sia l'unico percorribile se non vogliamo che tra qualche anno ci si debba ancora ritrovare con la stessa problematica abbiamo perciò intrapreso dei percorsi informativi informativi di dottrina sociale della chiesa con un format un po particolare che peraltro ha già riscontrato un certo successo perché quando si parla della dottrina sociale della chiesa sono tutti sembrano tutti principi astratti invece non lo sono ci sono i principi ma se calati nella prassi questi principi si applichano e si applicano bene quindi non solo pensiero annuncio conoscenza ma anche comportamenti conseguenti riteniamo così di poter essere ad aiuto nel sanare la visibile frattura fra fede e vita tra la vita nel tempio e le scelte quotidiane desideriamo inoltre questo sì forse sarà un'utopia ma mettiamole insieme nel cammino che ha disegnato papa francesco e siccome si tratta di il vangelo nel cammino che ha disegnato gesù cristo desideriamo a rendere popolare popolare la dottrina sociale della chiesa affinché essa diventi patrimonio comune delle nostre comunità cioè non è una cosa per addetti ai lavori e proprio perché lo è stato abbiamo le comunità che ci meritiamo questo l'obiettivo principale dei percorsi di dottrina nella nostra diocesi cioè fare in modo che emerga una vera opinione pubblica intra ecclesiale condizione essenziale perché si possa diffondere la dottrina sociale della chiesa e così possa allargarsi la sua sfera di influenza nell'ambito del discorso del concetto del lievito ci si forma nella comunità attraverso il libero scambio di parola e di legittime opinioni riteniamo questo nella convinzione che dal libero e sincero dialogo si favorisca la concordia di intenti e di opere questa priorità pastorale ha due volti indispensabili libertà autentica usata secondo giustizia e la carità perché tutto ciò conosca ovviamente un'accelerazione è necessario che la chiesa diocesana eccellenza carissima investa maggiori risorse soprattutto umane i poco volontari dell'ufficio che con me si danno da fare gratuitamente nei ritagli di tempo spendendosi per divulgare la dottrina sociale della chiesa hanno bisogno di altre forze di un progetto ancora che si allarga ancora di più sempre nella logica del non perdere ancora tempo per ritrovarsi ancora comunità dove non c'è consapevolezza di che cosa sia la politica di che cosa sia la custodia del creato di che cosa sia la giustizia la pace e quant'altro ora è vero che noi abbiamo riscontrato veramente dei come dire dei segnali positivi in questi incontri ci hanno seguito in un modo particolare abbiamo vi racconto solo soltanto una cosa ma non raccontare vi dico che praticamente per spiegare il principio del bene comune utilizziamo il dilemma del prigioniero che cosa c'entra con i principi di ottenimento della società della chiesa nulla ma poi nel corso dello sviluppo ci si rende conto che quello è bene comune e insomma sarebbe troppo lungo spiegarlo allora segnali positivi ce ne abbiamo perché quando siamo arrivati ci hanno chiesto quando tornate alla prossima volta si svolgono in due incontri per ogni singola parrocchia quindi le nostre parrocchie sono una sessantina immaginate quanto tempo ci voglia e credo che ci siano due criticità che vanno affrontate una è quella che diceva lei e perché è normale che sia così non può essere diversamente abbandonare il clima di depressione da malato terminale cioè siamo pochi pochi sono i sacerdoti e che cosa possiamo fare noi no questa non è questo non non è spirito evangelico questa non è chiesa l'oggi che stiamo vivendo non dovrebbe essere considerato come una notte buia e tempestosa o come un tunnel dal quale non vediamo l'uscita quelli che stiamo vivendo sono a tutti gli effetti tempi nuovi tempi nuovi con le loro luci e le loro ombre e che quelle queste dovranno essere interpretati da angoli di visuale diversi dai precedenti come giustamente diceva lei l'altro l'altro punto a cui fare riferimento è questo che occorrerà rilanciare il binomio tra clero e laicato ma in senso circolare così come voleva il concilio cioè riscoprendolo ovviamente attuandolo c'è una vera uguaglianza indignità una vera fraternità una vera comunione tra sacerdozio ministeriale e sacerdozio comune come non pensare in questo senso alla vita vissuta di tanti testimoni da un primo mazzolare a toniolo sturzo donati dei gasperi lapira moro e quant'altro in utile sarebbe molto lunga finisco dovrei continuare ma devo finire ho capito che devo finire avremo altre cose da dire avremo tempo di confrontarsi su questo perché tanto questo è solo l'inizio è solo l'inizio perché queste comunità noi come comunità cristiana dobbiamo riscoprire questi temi dobbiamo riscoprirli non esistono una battuta sul ruolo dei laici e dei presbiteri che ci si detta il magistero quindi non l'invento io ce lo dice il papa ce lo dice tutto il magistero ai fedeli laici è affidato una missione propria nei diversi settori dell'agire sociale cioè nella politica benedetto sedicesimo così come si esprime si esprime in questo modo in merito riconfermando peraltro posizioni già assunte dal dal ministero pontificio nel tempo il compito immediato di agire in ambito politico per costruire un giusto ordine nella società non è dunque della chiesa come tale ma dei fedeli laici che operano come cittadini sotto propria responsabilità quindi non spetta i pastori della chiesa intervenire direttamente nell'azione politica e nell'organizzazione della vita sociale questo lo dice il catechismo non lo dico neanche io e neanche il magistero lo avete scritto sul catechismo al numero 2442 me lo sono appuntato perché ovviamente non conosco tutti i com semmai leggiamo nell'evangelio gaudium spetta anche ai pastori preoccuparsi della costruzione di un mondo migliore salto tutto per solo per arrivare a una domanda è possibile che sia ancora vero quanto affermato nel lontano 1981 credo che siano più i suoi tempi che i miei ma comunque insomma siamo lì dal consiglio permanente della cei in uno dei suoi migliori documenti la chiesa italiana e le prospettive del paese se non abbiamo fatto abbastanza nel mondo non è perché siamo cristiani ma perché non lo siamo abbastanza